Sono tornati tre volontari della misericordia del Partenio che lo scorso martedì sono partiti in ambulanza alla volta dell'Albania Terra che non dimenticheranno mai più. Salvatore, Roberto e Daniele a loro rientro per prima cosa con orgoglio hanno mostrato la bandiera albanese ma dentro di loro hanno tante emozioni e ricordi che ancora con difficoltà riescono ad esternare. Abbiamo fatto un grande cambiamento di vita, una grande esperienza, una cosa che ci toccherà per sempre perché vedere certe immagini non te le scordi più, è difficile dimenticarle. Cosa avete provato quel famoso giorno, quel famoso triste giorno quando avete ritrovato mamma e figlio privi di vita purtroppo abbracciati, un ragazzo di 19 anni ed anche una donna anziana? Una scena come detto prima indipendicabile, non ci sono parole per descrivere questa cosa una cosa che ci ha scosso tutti molto psicologicamente perché trovarsi di fronte a scene del genere non si vedono neanche nei film questa cosa. Siamo partiti, già sapevamo che ci rispettava questo però non del tutto pensavamo noi che la situazione era un pochino più lieve, la verità. Già appena arrivati, la prima scossa di terremoto è stata brutta. Poi vedere certe scene, già quando ti trovi di fronte alle macerie c'è una sensazione bruttissima figuriamoci quando escono dei cadaveri, la gioia più bella è quando si ritrovano persone ferite che si può fare qualcosa, però purtroppo a noi non ce ne sono state.